Musica Basf da sempre si impegna a rispondere alle necessità dell'agricoltura mettendo a disposizione delle soluzioni innovative. Basf e Terepadane collaborano da anni per trovare le migliori strategie di difesa delle culture attraverso questa piattaforma varietale nella quale vengono raggruppate tutte le migliori soluzioni per produrre un frumento di qualità. Per la difesa Basf ha deciso di utilizzare due differenti strategie. Sui frumenti teneri in fase di foglia bandiera BBCH39 è stato utilizzato Comet 250C a base di piraclostrobina. Grazie alla sua selettività e miscibilità Comet ha una finestra di utilizzo molto ampia che va dalla fase di accestimento fino a quella di fioritura. Inoltre l'effetto Axelens garantisce una risposta migliore agli stress pedoclimatici grazie a un migliore utilizzo di acqua e dei nutrienti apportati. Sempre sui frumenti teneri in fase di fioritura BBCH61 Basf suggerisce l'utilizzo di Caramba a base di Metconazolo. Caramba è molto efficace sulla fusoriosi della spiga e garantisce un ottimo controllo delle micotossine. Questo aumenta la commerciabilità della granella. Inoltre Caramba consente anche il controllo di diverse patologie della foglia. Sui frumenti duri in fase di foglia bandiera BBCH39 Basf consiglia l'utilizzo di Priaxo a base di piraclostrobina e fluoxapiroxal. L'effetto Axelens della piraclostrobina garantisce una migliore risposta agli stress pedoclimatici. Priaxo garantisce una copertura più rapida e più duratura dovuta anche al fatto di essere molto resistente al dilavamento. Sistiva è un conciante di Basf a base di Fluxapiroxal, un conciante innovativo che utilizzato dalle aziende sementiere errorato sul seme è in grado di proteggere il seme dalle patologie che possono essere insite nel seme stesso ma anche in grado di proteggere il seme dai patogeni che si trovano nel terreno. Il Sistiva inoltre ha la caratteristica di poter controllare patologie fogliari in quanto è in grado di risalire nella pianta attraverso la linfa ascendente e proteggere la pianta dall'interno. Il Sistiva, grazie alle sue caratteristiche, dà la possibilità all'agricoltore di poter avere maggiore flessibilità nell'impiego di fungicidi fogliari. Un'altra caratteristica molto importante per il Sistiva è il fatto che il prodotto ha una elevatissima selettività. Infatti se andiamo ad osservare le varietà in emergenza troviamo sempre percentuali di emergenza delle piante superiore a qualsiasi altro prodotto ha messo a confronto. E questo è molto importante in quanto avendo la certezza di un'emergenza completa le quantità di seme che si possono utilizzare possono anche essere lievemente ridotte.